Un tavolo tecnico con tutte le componenti della scuola calabrese nella sede della direzione regionale di Catanzaro. L'ha tenuto il ministro per l'istruzione Lucia Zolina che prosegue il tour de force in tutte le regioni allo scopo di verificare quali siano le esigenze specifiche del territorio in ragione di una imminente riapertura in sicurezza degli istituti. A settembre ripartiamo in sicurezza e in presenza riportando tutti i nostri studenti a scuola come abbiamo più volte ribadito. Il governo ha lavorato in questi mesi proprio per garantire la sicurezza di tutti, lo abbiamo dimostrato ahimè anche quando abbiamo dovuto chiudere le scuole ma adesso le riapriremo in sicurezza. Noi stiamo lavorando su tre fronti, utilizzare tutti gli spazi che ci sono adeguandoli e migliorandoli se non fossero abbastanza, trovarne anche di nuovi e migliorare gli arredi scolastici. Ci sono scuole del sud d'eccellenza così come le trova al nord e scuole un po' più in difficoltà al nord come al sud. Pensi che durante il periodo della didattica a distanza noi abbiamo fatto dei gemellaggi tra scuole che erano un po' più avanzate e scuole che non lo erano, ma le situazioni d'eccellenza le trova al sud come al nord. Il problema di edilizia scolastica è un problema atavico che riguarda un po' l'intero paese ed è per questo che noi siamo intervenuti stanziando prima fino a 798 milioni di euro. Recentemente ho firmato per altri 855 milioni di euro per le scuole secondarie di secondo grado e altri 330 milioni di euro. In più abbiamo dato poteri speciali a sindaci e presidenti delle province affinché possano essere velocizzati tutti i lavori. È firmato recentemente un protocollo anche con i sindacati dell'edilizia scolastica proprio per velocizzare insomma il tutto. E' sempre convinta che a luglio si possano tenere scuole aperte? Io ho detto che sul calendario scolastico si può aprire una riflessione solo se le strutture scolastiche fossero adeguate alle temperature che ci sono in giro per l'Italia. Per la soluzione delle varie problematiche che affliggono la scuola calabrese ci saranno nuove occasioni. Ora la priorità è riaprire le scuole. Il ministro ha poco da chiedere nel senso che è il ministro che dà a noi delle istruzioni quindi in qualche modo siamo noi che ci adeguiamo alle linee guida che chiaramente arrivano dal ministero. A me interessa capire i fabbisogni dei singoli territori sia in termini di arredi sia in termini di organico. Confrontarci soprattutto con gli enti locali e con gli uffici scolastici regionali e provinciali per cui io auspico che ci sia una massima collaborazione territoriale perché se andiamo tutti dalla stessa parte, se remiamo tutti dalla stessa parte, noi la scuola la riapriamo a settembre in sicurezza e in presenza come abbiamo detto prima. A docenti, agli studenti che messaggio vuole inviare? Beh, agli studenti il messaggio che voglio dare così come alle loro famiglie di impegnarsi di lavorare. Io sono molto orgogliosa di quello che hanno fatto durante il periodo della didattica a distanza così come per i docenti, per i dirigenti scolastici e un po' in generale per tutto il personale scolastico. Penso che l'impegno di tutti, remare tutti, andare tutti verso la stessa direzione salverà la scuola.